Ciao a tutti, sono Domenico Petrolino, questo episodio di Non puoi non saperlo è dedicato a Max Weber, sociologo, filosofo, giurista ed economista tedesco che insieme a Karl Marx e Emil Durkheim è considerato il padre fondatore della sociologia. Prima di incominciare un ringraziamento a Contessa Amelia e Marcia Allegri che mi hanno suggerito questo ed altri studiosi di sociologia che tratteremo nei prossimi episodi. Vi invito ovviamente a mandarmi i vostri suggerimenti e farò il possibile per accontentarvi. Bene, procediamo. Karl Emil Maximilian Weber nasce nel 1864 a Erfurt in Sassonia, a quel tempo parte dell'impero prussiano. È l'ultimo dei sei figli di Max Weber Sr., un membro del Partito Liberale Nazionale e di Helen Pallenstein, una devota calvinista che aspirava ad una vita ascetica. Max crescerà così in una casa frequentata da accademici e personaggi politici e ne risente positivamente dal punto di vista intellettuale. Annoiato dalle lezioni scolastiche, legge segretamente i 40 volumi dell'opera omnia di Goethe, cosa che, come hanno dimostrato recenti studi, influenzerà la sua opera. Nel 1882, all'età di 18 anni, Weber si iscrive alla facoltà di legge dell'università di Heidelberg, per poi passare a quella di Berlino l'anno successivo. Si laurea nel 1886 e inizia il suo dottorato in legge. Nel 1888 si iscrive alla Verein für Socialpolitik, una neonata associazione di economisti tedeschi che considera l'economista principalmente come colui che cerca soluzioni a problemi sociali e che per prima introduce la pratica di effettuare studi statistici in larga scala in merito a questioni economiche. L'associazione esiste tuttora, ha la sua sede a Francoforte e conta 3.800 membri individuali e 48 imprese. Nel 1889 consegue il dottorato in legge, durante tutti gli anni Ottanta studia anche storia e filosofia e si impegnerà anche nell'attività politica entrando nel congresso sociale evangelico, un partito di sinistra. Due anni dopo, all'età di 27 anni, Weber consegue l'abilitazione alla libera docenza e inizia a insegnare all'università di Berlino e a servire da consulente per il governo. Nel 1890 dirige il progetto di ricerca dell'associazione Verein für Socialpolitik dal titolo La questione polacca, che ha lo scopo di esaminare il fenomeno dell'afflusso di lavoratori polacchi nella Germania dell'Est, lavoratori che andavano a prendere il posto di quelli locali che si spostavano a loro volta verso le città tedesche in via di rapida industrializzazione. Oltre a dirigerlo, Weber scrive anche gran parte delle conclusioni dello studio, che attira molta attenzione e altrettante controversie, e segna il momento dopo il quale Weber viene ufficialmente riconosciuto come uno studioso della società. Nel 1893, all'età di 29 anni, Weber sposa la sua lontana cugina Marianne Schlittger, che diventerà più tardi un'attivista femminista e una scrittrice. Dopo la morte del marito, Marianne raccoglie e pubblica tutti i suoi articoli accademici, nonché la sua biografia, che fu molto utile agli studiosi per meglio comprendere alcuni aspetti della vita e del pensiero di Weber. Dal 1893 al 1899 Weber fu membro della Al-Deutscher-Verband, ossia la Lega Pan-Germanica, un'organizzazione estremista ultranazionalista fondata nel 1891 e i cui membri si oppongono all'afflusso dei lavoratori polacchi in Germania. Quanto e in che modo Weber fosse legato a questa organizzazione alle sue politiche nazionalistiche è stato ed è tuttora oggetto di studio da parte degli accademici. In alcuni dei suoi lavori, in particolare nella sua provocatoria lezione del 1895 dal titolo Lo Stato-Nazione e la politica economica, Weber critica il fenomeno dell'immigrazione dei lavoratori polacchi in Germania, accusando la classe dei proprietari terrieri della Prussia, i cosiddetti Juncker, di incoraggiarla con il solo fine di schiavizzare i lavoratori stessi. Nel 1894 Weber si trasferisce con la moglie a Friburgo, dove diventa professore di economia all'Università della città. Due anni dopo accetterà la stessa posizione all'Università di Heidelberg, rimanendo membro attivo sia del Verein für Sozialpolitik sia del Congresso Sociale Evangelico. Nel 1897, quando Weber ha 34 anni, gli muore il padre. Ciò accade due mesi dopo che i due avevano avuto un grave litigio e senza che vi sia potuta essere una spiegazione o una rappacificazione. Questa circostanza lo segnerà profondamente e da qui in avanti sarà sempre più soggetto a crisi depressive, al nervosismo e all'insonnia, problemi che gli rendono difficile svolgere la sua attività di docente. Nel 1899 è costretto così ad interrompere i suoi corsi e a farsi ricoverare in una casa di cura tra l'estate e l'autunno del 1900. Su consiglio dei medici prenderà un periodo di riposo nel quale viaggerà. Spenderà molto tempo in Italia, soggiornandovi fino al 1902, anno in cui tornerà a Heidelberg. Nel 1903 lascia l'insegnamento per tornarvi solo 16 anni dopo nel 1919. La sua lotta contro la malattia mentale è descritta dallo stesso Weber in un diario, distrutto poi dalla moglie che teme che il rendere pubblica questa esperienza del marito avrebbe permesso al regime nazista di screditarne l'intera opera. Libero dagli impegni come docente, Weber accetta una posizione come curatore per il giornale accademico Archivio di scienza sociale e politica sociale. È in questo periodo che i suoi interessi si spostano sulle questioni fondamentali della scienza sociale e i lavori prodotti sono oggetto tuttora di grande interesse per gli studiosi. Nel 1904, all'età di 40 anni, Weber inizia a pubblicare sullo stesso giornale alcuni dei suoi più influenti articoli. In particolare il saggio L'etica protestante e lo spirito del capitalismo che diventa il suo lavoro più famoso e che pone le fondamenta per le sue ricerche successive in merito all'impatto delle diverse culture e religioni sullo sviluppo dei sistemi economici. Questo saggio è l'unico tra i suoi lavori di quel periodo che viene pubblicato in forma di libro quando Weber è ancora in vita. Tutti gli altri suoi scritti dei primi quindici anni del ventesimo secolo, dedicati per la maggior parte ai campi della sociologia della religione, della sociologia economica e della sociologia legale, verranno invece pubblicati postumi. Bene, direi che per oggi abbiamo fatto abbastanza e lascerei quindi l'analisi di questa importante opera per il prossimo video. Iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi episodi di Non puoi non saperlo su Max Weber e altri interessanti personaggi e mi raccomando se volete mandate i vostri suggerimenti e farò il possibile per accontentarvi. Spero che abbiate trovato il video interessante, fatemi sapere cosa ne pensate e come sempre grazie per l'attenzione, ciao a tutti e alla prossima!